Entro la fine di maggio comincerà il reclutamento di pazienti con sclerosi multipla da sottoporre alla sperimentazione ufficiale del trattamento con angioplastica venosa del professor Paolo Zamboni. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla sanità rispondendo ad una interrogazione di un consigliere regionale del PDL che chiedeva conto della copertura economica alla sperimentazione ricordando l'impegno preso dalla regione Emilia-Romagna. Per il progetto Brave Dreams, messo a punto da professor Zamboni, la giunta regionale ricorda Lusenti ha messo a disposizione dell'azienda ospedaliere universitaria di Ferrara oltre 2,7 milioni di euro per il finanziamento da parte della regione di tutto lo studio che coinvolge 19 strutture sanitarie in 10 regioni. Una decisione che dovrebbe tranquillizzare i pazienti ammalati di sclerosi multipla e di CCSVI che da tempo chiedono l'avviamento della sperimentazione e che alcune settimane fa avevano manifestato il proprio dissenso di fronte alla posizione dell'assessore Lusenti di vietare al professor Zamboni di proseguire, parallelamente alla sperimentazione clinica Brave Dreams, le sue normali attività diagnostiche sulla insufficienza venusa cronica cerebro-spinale, una posizione che Lusenti motiva così. Cosa diversa è che questa attività, oggetto di una sperimentazione che deve dimostrare efficacia e sicurezza di questi trattamenti sia già ricompresa nell'attività assistenziale ordinaria, cioè venga erogata ai pazienti. Allora è anche intuibile, se si fa una sperimentazione vuol dire che non è ancora un'attività di efficace sicurezza consolidata, ma soprattutto su questo tema esiste una direttiva del Consiglio Superiore di Sanità, sottoscritta dal Ministro Fazio un anno fa, che su questo argomento dice che questo trattamento, cioè l'angioplastica venosa in pazienti che hanno un restringimento del circolazione venosa endocranica portatore di sclerosi multipla, è possibile svolgerla solo all'interno di sperimentazioni, che è esattamente ciò che noi sosteniamo.